Un bacio forte forte ragazzi Allora dopo voglio che tu mi saluti Riccardo Fiappatur E devi dire Chi vuole viaggiare in Venezuela Solo con Riccardo Chiudi perché c'è altri venti non si vede niente Marco Sentiamo pure di là Riccardo Fiappatur sta a Miami L'organizzatore dei viaggi Se tu vuoi andare in Venezuela Ti faccio regalare il viaggio Però voglio che tu dici Che tutti i guanni si devono regalare da Riccardo Fiappatur Per viaggiare in Venezuela In tanti a braccia aperte Vittoria numero uno Ce lo vuoi dire per Riccardo Fiappatur Ragazzi andate tutti a Riccardo Fiappatur 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 Sarebbe la Fiappa Sì sì Devi dire se la Fiappa vuoi avvenire Con Riccardo Fiappatur devi viaggiare Andiamo là che un ragazzo che si mette in squadra È fortissimo Riccardo Riccardo un bacio forte vi fai un condividi Ragazzi condividiamo in tanti Ragazzi vogliamo un condividi tutti per piacere Un bacio forte Ricordiamo